ciao ragazzi bentornati qui sul mio channel youtube io sono Alessandro oggi insieme andiamo a fare un total body workout partiamo subito con il riscaldamento metto il timer e si parte alla gambe partiamo con uno skip sul posto quindi tappetino bottiglia d'acqua e cominciamo subito let's go sulle ginocchia ci cominciamo a riscaldare un bello skip sul posto oggi super lavoro insieme yes total body workout lavoriamo tutto il corpo questo circuito è per chi ha poco tempo e vuole raggiungere degli obiettivi sul proprio fisico let's go partiamo con riscaldamento vai 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 respiriamo sulle ginocchia let's go vai 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 let's go via 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 10 secondi ancora ancora veloce stop recupero respiro cominciamo a far alzare la temperatura vai vai sulle braccia aver chiudo let's go vai vai siamo partiti con un jumping jack è un esercizio militare si usa per il scaldamento dai e poi partiamo da scaldamento più veloci vai 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 diamo sulle braccia 7 secondi stop respiro rieguvero e adesso andiamo con uno squat gambe divaricate punte rivolte verso l'esterno e via sono partito vai cerchiamo di mandare il peso sui glutei ok scendo via 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 vai let's go vai 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 via secondo esercizio dopo abbiamo dei push up dai sono piegamenti sulle ginocchia recupero respiro adesso andiamo giù chi non ce la fa vi fa sulle ginocchia vai siamo partiti peppe fuori e salvo via su dai ragazzi via 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 siamo partiti let's go chi non ce la fa continua sulle ginocchia let's go ci siamo e respiro adesso partiamo con un jack squat è uno jumping jack o uno squat solo con le gambe gambe chiuse e scendo giù il squat chiudo vai questo andiamo a aumentare sempre di più la velocità let's go dai 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 via dai giù dai ci siamo stiamo dopo di questo abbiamo un crunch dai sono un po' di un workout oggi dai ci siamo stop respiro prendo il tappetino vado giù vai lungo e ci siamo respiro vai stop sui piedi ispiriamo posizioniamo posizioniamo il tappetino andiamo con il mountain climbers via giù e vai porto le ginocchia verso il pezzo respiro dai 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 ci siamo let's go dai ci siamo ci siamo paio veloci, dai, stop, su in piedi, questo è un ottimo workout dal body per iniziare un giorno, affondi indietro, via, allungo, intanto ragazzi, cercate di non poggiare il ginocchio a terra, quando facciamo l'affondo, allungo, più chiaro dobbiamo stare attenti a non sbatterlo, respiro, prossimo esercizio, bam, esplassimo, dai ci siamo, let's go, via via, dai, dai, 10 secondi, let's go, reguvero, e adesso andiamo di barbis, gambe divaricale, un bel respiro, via, scendo giù e vengo su con il saltello, dai eh, il lavoro di oggi è un minuto di lavoro, 10 secondi di recupero, dai ragazzi, ancora, via, 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 piettare, 10 secondi, passi, 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 attraggio, numero, andiamo giù, con un plank elbow, vai, faccio i gomidi, e salgo, su, vai, scendo, cambio braccio, su, scendo, e vado a sinistro, su, scendo, vado a destra, su, scendo, sinistro, respiro, vai, scendo, vado a destra, su, respiro, ancora, vado a sinistro, scendo, dai ragazzi, vado a destra, salgo, respiro, su, giù, su, giù, yes, su in piedi, un bel respiro, adesso, andiamo a fare un crunch, con le braccia stese, vai, schiena poggiana, braccia stese, e allungo, per non sforzare la cervicale, rimango un secondo, vai, allungo, ancora, su, allungo, vai, ancora, allungo, allungo, su, vai, allungo, ci siamo, respiriamo, su, allungo, respiro, vai, allungo, dai, allungo, dai, ultimo, respiro, ora andiamo a fare un barbis, con un movimento laterale, via, siamo partiti, barbis, corsa laterale, qui lo spazio è piccolino, voi potete fare una corsa laterale più grande, let's go, vai, via, ancora, let's go, via, 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 vai, inizia a sentire il lavoro, dai, respiro, bravi, regoliamo, ora, esometria duro, vai, schiena poggiata, rimango immobile, intanto ragazzi, pensiamo così, iscrivetevi al mio canale YouTube, perché ogni settimana, uscirà con un sacco di contenuti nuovi, su fitness, e sull'allenamento, dai, ci siamo, oggi super lavoro tutto il body, perché a poco tempo, dai, dai, ci siamo, respiro, 15 secondi, dai, stop, respiro, ragazzi, ci siamo, l'ultimo esercizio, squat jump laterale, vai, intanto vi dico che, ho un profilo Instagram, se volete aggiungermi, per qualsiasi consiglio, sport, sempre like su Instagram, spiro, Vai! Let's go! Chiamo! Enchora! Vai! Let's go! Vai, veloci! Stop! Yes! Ottimo, ottimo lavoro! Ragazzi, io vi faccio i complimenti! La frequenza è ancora alta! Aggiungetemi su Instagram! Sport Save The Life! Tutto attaccato! E mi iscrivetevi! Dovete scrivermi! Per qualsiasi consiglio sull'allenamento e sul fitness sono a vostra disposizione! Anche con un coaching online! Se volete essere seguiti da me in maniera personalizzata Ragazzi, non esitate a scrivere perché vi faccio dei programmi specifici per raggiungere i risultati prima possibile! Noi ci vediamo nel prossimo video mai mollare con i workout sempre Sport Save The Life! Ciao ragazzi! Vi mando un abbraccio! Ciao ragazzi! Vi mando un abbraccio! Grazie! Grazie! Grazie!